L'amicitrice di questa selezione è Francesca Stella che adesso si presenterà. Dici qualcosa di te? Sono una semplice ragazza di città, vivo a Chieti, mi sono appena diplomata al liceo scientifico di Chieti e spero che questa esperienza possa andare molto avanti e spero di rientrare in finale. Intanto Montecatini sarà un'esperienza molto dura, penso, però speriamo di farcela. Cosa ti aspetti da questo concorso, comunque vada? Spero che possa avere spazio nel mondo della moda, sia una rampa, una rampa di lancio per tutte le ragazze che parteciperanno. Ecco, naturalmente una domanda banale che ti si è sentita già fare questa sera, i tuoi progetti per il futuro, che cosa vorresti fare oltre questo concorso naturalmente? Il mio progetto era quello, si spera di rientrare alla facoltà di medicina di Chieti, si spera però... Quindi un futuro medico? Sì, un futuro medico. Benissimo, noi te lo auguriamo un grosso in bocca al lupo. Grazie, grazie mille.